Contro Perugia vale bene un brindice questa sera. Si è stata durissima, guarda, l'ultimo set si è stati bravissimi, credo, anche perché bastava niente che potevamo mollare e fino alla fine chi un po' così, con l'umore girato, chi invece abbiamo sempre pensato alla vittoria perché sapevamo che questi tre punti si avrebbero stati importantissimi e si è stati bravi davvero fino in fondo. C'è un fondamentale che forse può avere fatto la differenza questa sera o è stata davvero una sonda di piccoli episodi? Credo che loro abbiano disputato una buona partita con un buon cambio palla. Io personalmente credo di aver sopperto a muro in posto 4, però dai, abbiamo sbagliato poco, magari nei primi due set, nonostante abbiamo vinto, abbiamo smutato via un po' di contrattacchi, dobbiamo stare più attenti nelle limature e quel gioco un po' spumeggiante che ci contraddistingue e non può ritorgersi conto. Senti i tre punti che adesso davvero vi portano a un passo del primo posto considerando anche i confronti diretti tra gli altri? Sì, in modo silenzioso, saremo tenaci nelle prossime due partite e sappiamo che non sarà così semplice, ma sentiamo l'odore e vediamo come andrà a finire. Grazie mille. Presidente, una partita tiratissima, uno spettacolo da 4.800 persone, tantissimi tifosi di Perugia, tanta emozione. Io ho ricevuto una consegna dal mio coach, in post partita io non parlo, non rilascio dichiarazioni. Può parlare solo vento per me, io non posso parlare. Cambio!